Ma ciao Ferre, ti piace la mia macchina? Sì, è bellissima, è bellissima Grazie, la utilizzerò per trovarti in questo fantastico posto Lo so, lo so Ferre ha preparato una nuova mappa di nascondino con le auto e questa volta ha scelto la zona della scuola quindi ci saranno tanti nascondigli perché è un po' meno di città, ci sono tanti prati in più Sì, sì, esatto E quindi tanti nascondigli extra Preparatevi perché sarà epico E ragazzi, come va? Io sono Ferre Niki E sono te, perché oggi chiamo GTA V Ed eccoci qua con un nuovo nascondino con le auto prontissimi a nasconderci in questa zona Ci saranno tanti prati nascondigli quindi non sarà facile trovarsi Stef stavolta Te lo dico già Lo so Ferre, sono abbastanza preoccupato e parti tu a nascondirti Quindi diciamo che mi devo subito concentrare Sì Ferre, vai pure, vai pure Ok, non guardare, mi raccomando Puoi decidere ovviamente se nasconderti o far finta di essere qualche civilotto che se ne sta in giro per le strade Tutto tua come scelta Ok Io per ora sto qua a fissare un bel muro Iniziamo ad esplorare Ferrettina, Ferrettina Vado molto fiera di quello che ho fatto Non so che lo dico sempre Però questa volta Allora, hai un veicolo normale? Uno di quelli che si trovano in giro per la mappa piccoli piccoli? È una Smart Oh no Ferre Però aspetta Non è che sono infilata in posti troppo nascosti Sono nascosta Ok Ok, ok È un buon indizio, è un buon indizio Però mi sto nascondendo più cattivo dell'anno Anche questo non è proprio Ok, ok, ok Buono, mettiamola così Va bene, va bene, va bene Sono appena arrivato nel campo di atletica leggera Ok Ed è interessante per nascondersi anche qui Quindi Ci sono un sacco di posti Ovviamente credo sia il campo di atletica di questa scuola qua Che è tipo gigantesca E Ferre potrebbe essersi già messa qui da qualche parte Perché potenzialmente lo avrebbe potuto fare Anche perché da quando ho nominato scuola Lei si sta guardando intorno Quindi non vorrei Che ho già azzeccato la zona No, mi dispiace E mi manca soltanto trovarla Sarebbe troppo scontato andare lì Io sapevo Che come prima volta Saresti andato ladrito nella scuola Perché ovvio È il posto che più attira l'occhio Quindi ti ho diciamo un po' fregato Cioè non fregato Sono andata da altre parti Non so se mi fido Allora, tu controlla se vuoi Sì, sì, io controllo tutto Guarda Perdo tutto il tempo del mondo Ferre Dove sei? Dentro una villa Ferre Sento odore di Ferre e Nicky La sento tantissimo Dici? Eh, sì Guarda C'è pure una piscina Tu sei attrata delle piscine Quando facciamo un nascondino con le auto Quindi secondo me Mi sono già nascosto dentro una piscina Non potrei rifare due le tasse Ma questa mappa è troppo cattiva Cioè io Io mi rifiuto di giocarla Perché so già che tu ci metterei 25 minuti a round a trovarmi Però Io ho trovato qualcuno Non so se la conosci Ferre non mi puoi sparare tu Smettile immediatamente Ti buco le cose Ho trovato qualcuno E non so se conosci questa persona Nana Smart rossa Si nasconde in villa È molto prevedibile E viene trovata da Steph In circa 4 minuti Su una mappa epica Quindi Eh, non so Era un bel nascondiglio Non dovevi entrare qui dentro Scusa Era un bel nascondiglio Era un bel nascondiglio Sì, sì Ferre si è messa lì nel muretto Fermo a contare Ad aspettare che Steph Faccia il suo nascondiglio epico E io sono indeciso Consolini Con la mente Cercate di votare Tra due nascondigli Allora Abbiamo quello qui Alla mia sinistra Che sarebbe Sci, sci, sci Sci, sci, sci E si arriva Guarda che non ti capiscono quando fai stiventi Non ti capisce nessuno Ci stiamo capiti E questo è uno ed è cattivo tantissimo L'altro è quello che io ho controllato se c'è la Ferre dentro E secondo me quello è ancora più cattivo Quindi mi sa che facciamo quello con Solini Così gli diamo anche un indizietto Che comunque non è male E magari invece che aspettare 20 minuti Dobbiamo aspettarne solo 10 Aspetta devo capire anche se ci passo un attimino No Ferre non ci passo Ho pensato a un nascondiglio inutilmente Mi dispiace Ti faccio vedere Tu dovevi scendere dalla scuola Dalle scalette scendevi tutto giù Praticamente poi passavi in questo vicoletto Ok Riggiravi a destra e andavi sotto le scale qua Ma come pensavi di poter passare lì in mezzo Beh guarda Qui ci passava È solo qui che non passa Un'auto lì non ci passa Si vedeva Il quad ci sarebbe passato però eh Forza 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 Muoviti 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 Iniziamo Che brava che sia per l'elettromarcia eh Zitto guarda Attenta ai muri però Eh ma sei qui in zona guarda Lo so già Lo so già che sei qui Oh come scende bene le scale Allora Vediamo dove si è nascosto Ferre ma stai facendo ginastica Sicuramente in uno di questi campi Guarda che per correre Ferre non si sta sopra la macchina Altrimenti non è un vero allenamento E non so se magari nessuno te l'ha mai detto Oh guarda che guidare fa fare un sacco di muscoli Eh certo 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 Ok se ne va in giro per la scuola Va bene va bene Mi sembra giusto che tu ti muova E te ne vada in tutte le zone Con l'indizio che Steph comunque già ti vede E questo è un indizio gigantesco E vediamo un po' quanto ci metti a trovarmi Ah sei tornata nella strada normale Ah stai zitto mi stai facendo via il nervoso Adesso mi giro guardo il tuo schermo e ti ammazzo Quindi smettila Sì Fai da brava Non mi farà arrabbiare Fai da brava Probabilmente sei un cespuglio di questi Ah I cespugli Ferre Guarda che se ti metti io mica ti vedo Non lo so lo so A parte il colore della macchina Se avessi messo delle smart tipo rosse Secondo me anche nel cespuglio ti vedi Però hai messo C'era quella gregina tipo beige Quella bianca Io quella beige E allora con quelle sì Secondo me non ci spugli non ti noti In ogni caso Continuo ad aspettare che tu mi trovi Però Però Non lo so Non siamo in alto mare Te lo dico Non credo che siamo in alto mare Io penso di essere in zone che tu stai facendo finta Ma no ma sei Allo momento A meno che non mi stia dietro Non me ne sono accorto Non ti vedo Allora sono passati circa otto minuti Quindi ho deciso di darti un indizio Ferre Dimmi Sono nascosto Nella zona del campo di ginnastica Ok Quindi sono proprio lì Non è inutile che vai nelle zone circostanti Nella strada intorno Eh ma io l'ho guardato almeno cinque volte Sto sui denti di campo Eh lo so Io allora devo guardare bene tutti i cespugli Ancora Consolini È fissata con questi cespugli Non le so sicura Va bene Ferre Perché tu hai detto che se ti metti in un cespuglio con una macchina beige Non ti dovresti vedere Vabbè quella era un'annotazione Ferre Nel senso No quindi vuol dire che tu ti sei messo in un cespuglio con una macchina beige Non ti vedi Va bene va bene continua Assolutamente disgraziato Ai 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 Ferre 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 Partiamo male oggi eh Partiamo male Cioè sta prendendo in pieno tutti i cespugli Perché è difficilissimo da guidare sta cosa ok E devo dire che è assurdo che No no Ferre lì sei già fuori dalla zona del mio indizio Come sono fuori Ok si si sei già fuori Il campo di ginnastica Proprio il campo Eh si si è qua È qua è qua E io ti stavo per dire Che è assurdo che hai controllato tutti i cespugli Entra nel mio Lo sapevo Allora sei nella parte di sopra o in questi In quali questi Ferre Allora ci sono quelli sopra le scale Sei lì sopra e devo rifare tutto il giro O sei dentro il campo No sono in quelli sopra Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Guarda io l'ho detto Tu è inutile che continui a vedere Ma lo so che tanto sei infame Eh lo so ma di fatto Adesso voglio vedere dove sei Ho aumentato i minuti in cui io sopravvivo Eh lo so però sei disgraziato No 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 ma per sopra intendevo altri Vedi che allora ancora Stiamo in alto mare qua Aspetta 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 Lì è già fuori dalla circoscrizione No ci devo arrivare Perché secondo me tu sei Quelli qui sotto Oh quali Ti hai lanciato in qualche modo Ce li hai presenti questi qua Sì 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 Questi Ce li ho presenti Ce li ho presenti Ti sei buttato qui sotto Come non ci posso andare lì sotto Allora Ferre Segui le mie parole Vai lì dritta per andare all'uscita Ma sali sopra quell'angolino Vai lì sopra Continua tutta la strada Ah non ho fatto gli ultimi Continua Continua Ciao Ferre Sei una vergogna Cioè gli ho fatto Solo perché mi hai confuso tu dicendomi Te le erano i cespugli Ma lo sapevo che tanto sei bugiardo E trolli e basta E ti sei nascondere solo trollando Quindi lo sapevo che dovevo continuare a guardare i cespugli E basta Non è giusto Non è giusto Ti voglio bene Ferre Io no Vai Steph Puoi cercarmi Ok Ma stai nascosto o te ne ando in giro Ferre? Non in giro In giro? Eh ma Sei fiduciosa? La lotta di questi nascondigli Fatti solo per trollare Ora me ne vado in giro Voglio prendere un po' d'aria Va bene Va bene Allora Aspetta un attimo Cosa devo aspettare? Questo signorino No 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 Ne ho niente Lo vedevo curvare in modi strani Allora la tattica che ho utilizzato nel video di Lion Non lo farò Perché è troppo cattiva Quindi Ti cerco normalmente e via Per chi si chiede che cos'è quella tattica Perché abbiamo registrato un video per Lion Di nascondirlo con le auto Praticamente Se io inizio a sparare in giro tutte le auto Esatto I civili si spaventano E iniziano a correre dritti E di conseguenza capisco Se una persona appunto È un civile O è ferriti No dai è eccessivo Quello è eccessivo Non so perché Ho avuto il feeling Dimmi Ok come se ti fossi passato di fronte No per niente No ma io ho avuto questo feeling No ma non è mai successo Dall'espressione della tua voce Non è mai successo Io ho avuto questo feeling Ti assicuro che non è mai successo Sto tornando indietro E sto andando a controllare una macchina Che avevo visto prima Ok se lo dici tu va bene No Non sono nascosta in posti assurdi Sto semplicemente gironzolando Stai guidando bene Devo ammetterlo Stai guidando bene Al momento Allora Decapotabile no Sarebbe troppo coraggiosa come cosa Eh assolutamente sì Niente 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 Ho visto una macchina qua Che si muove in modo un po' particolare Ma è un tizio Ma è un tizio Niente Un civile mi ha appena raschiato l'auto Come l'hanno detto Ah sì Fere Anche qualcun altro Fere non mi puoi sparare Devi smetterla Ti buco le ruote e scappo Ti buco le ruote e scappo È lecito No Nessuno ha mai detto che non lo è Togliti tu Nessuno ha mai detto che non lo è Vieni qua immediatamente No dai ma quanti mi hai rotto poi Non lo so Due Ma dai Continua a scappare Ciao Stef Io ti prendo Fere Io ti prendo E ti distruggo immediatamente Non mi prenderei mai Ti avevo pure fatti i complimenti Perché te la stavi giocando bene questa volta Lo so sì ma sono giocata bene infatti Stef ti do un indizio giusto perché mi sono incastrata Ok Sono dentro una villetta Mi volevo nascondere Maledetta Però sono rimasta incastrata in un posto No 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 Ora non posso più uscire Non ti perdonerò mai Fere Non ti perdonerò mai Te lo meriti Ma che cosa mi merito Ti ho trovato in modo legittimo Che cosa volevi Allora io so già Che tu fai sempre cose illegittime per trovarmi Quindi direttamente ti punisco Non è vero Non è assolutamente vero Comunque Questa mappa Io la voglio rigiocare almeno dieci volte Fere Perché è meravigliosa Si può entrare In tutte le ville In tutti i posti Pieno di giardini Pieno di posti fantastici È epica Cioè non fa sfruttare in un solo video Manco per sbaglio Perché c'è davvero troppo E io sapevo Non so perché Io non so perché Consolini L'avete visto anche voi Ci saranno almeno 15-20 ville Fere devi smetterla Hai già imbrogliato abbastanza Per questo round Dicevo che ci sono almeno 15-20 ville In questa mappina Non so perché Riesco sempre a percepire Dove va Fere E lei infatti È triste di questa cosa Perché non riesce ad annientare La bravura di Steph Guarda non riesco ad andare in nessun modo Ho notato sai Non era Ah è anche trovato il modo Vedi Ancora peggio Saresti potuta scappare Fere Stai accendo i fuochi d'artificio Sì Devi morire Con della Ma non funziona Stai dando fuoco a tutto A questa No Fere Che hai sbloccato Grazie Steph Oddio Che è sbloccato No Come hai fatto Ho preso fuoco Perché ho piccato Un incendio gigante Nella villa Fere Ho sbagliato Per ragazzi Se vi è riuscito Ci sentite un bel like E se la prossima volta Che vedete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao Ciao